Se noi usciamo dalla Chiesa, chiacchierando e guardando questo, ma guarda questo, guarda quello, e con la lingua lunga la Messa non è entrata nel mio cuore. Perché? Perché non sono capace di vivere con la testimonianza cristiana. Ogni volta che esco dalla Messa devo uscire meglio di come sono entrato. Con più vita, con più forza, con voglia, con più voglia di dare testimonianza cristiana.